Pronti! Pronti! Modalità pilota automatico attivata! Attendo ordini! Chiudo! Caccia in volo! Caccia in volo! Inganciamo il nemico! Caccia distrutto! Caccia in volo! In avvicinamento al bersaglio! Destinazione raggiunta! Modalità pilota automatico disattivata! Modalità pilota automatico attivata! Caccia distrutto! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo! Inganciamo il nemico! In avvicinamento al bersaglio! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo! In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. Abbiamo affondato una porta aerea in nemica. Attenzione, segnalo la posizione del bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. Un nemico. Caccia distrutto. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. Caccia distrutto. Destinazione raggiunta. Modalità pilota automatico disattivata. In avvicinamento al bersaglio. Modalità pilota automatico attivata. In avvicinamento al bersaglio. 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 Caccia in vela. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. ingaggiamo il nemico caccia distrutto in avvicinamento al bersaglio sei l'ultima speranza ingaggiamo il nemico modalità pilota automatico disattivata caccia di ritorno in avvicinamento al bersaglio la corazzata nemica sta colando a picco modalità pilota automatico attivata caccia in volo in avvicinamento al bersaglio ingaggiamo il nemico in avvicinamento al risaglio in avvicinamento al risaglio in avvicinamento al risaglio in avvicinamento al risaglio Grazie a tutti.